Nuova importante vittoria dei comitati riuniti, delle associazioni e dei gruppi civici che da mesi si oppongono in modo costruttivo all'ipotesi di tracciato ANAS prescelto quale l'8C di variante Sud. Dopo il risultato epocale, unico in Abruzzo ottenuto presso il comitato Via, che ha indetto l'inchiesta pubblica, i comitati e le associazioni plaudono l'importante risultato ottenuto presso il Consiglio Comunale dell'Aquila, che riunito ieri all'unanimità ha votato la mozione depositata dai consiglieri comunali Periglie e Massocco e sottoscritta da numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione che in sostanza ribadisce la netta contrarietà a tutte le ipotesi di variante sinora proposte dall'ANAS e promuove e venga costruito un reale processo partecipativo che conduca a un'effettiva co-progettazione del tracciato con le comunità locali attraverso metodi codificati di partecipazione. Con questo passaggio si segna un epocale cambio di marcia nelle aule del Consiglio Comunale. I consiglieri di maggioranza e opposizione decidono in sostanza all'unanimità di superare le vecchie logiche dell'emergenza impositiva e contraria a ogni normativa comunitaria che richiedono invece per questo genere di opere infrastrutturali così importanti un reale coinvolgimento delle comunità locali attraverso un'attenta valutazione di impatto sociale e ambientale supportate da una valutazione ambientale strategica che sappia analizzare l'opera, calandala nel contesto economico, culturale e sociale, specifico dei territori coinvolti dell'intervento rispondendo realmente attraverso una pianificazione integrata e negoziata ai fabbisogni delle popolazioni locali nel rispetto e nella tutela dell'ambiente e dei siti di interesse archeologico e storico-culturale. I comitati invitano ora il sindaco Ciolenti a rispettare la volontà espressa all'unanimità dal Consiglio perché questa sia correttamente rappresentata nei prossimi tavoli tecnici con il Cipe, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione e l'ANAS. Più nel dettaglio si chiede che il processo partecipativo sia di fatto regolamentato come indicato dai protocolli internazionali e prescritto dalle normative vigenti e guidato da un'attenta valutazione ambientale e sociale come giustamente sottolineato e messa a verbale durante il dibattito consigliare dal consigliere di maggioranza Enrico Perilli.